Bellissima, stupenda l'immagine con cui ci siamo lasciati ieri, no? Questa immagine che abbiamo preso da un verso di una poesia di Davide Maria Turoldo. Oh Signore, ve lo voglio leggere così evito di deturpare la bellezza di queste parole. Signore, dalla croce tu mi guardi con occhi che fanno del mio cuore un lago di pianto. Sì, un lago di pianto anche per il dolore dei nostri peccati, delle nostre infedeltà a Dio. E quando io tocco l'amore di Dio, come l'hanno toccato i santi, sia quelli canonizzati, ma anche tanti che non sono stati canonizzati, e tocco questo amore di Dio, quando mi rendo conto del mio peccato, o dei miei peccati, ma anche dei peccati degli uomini, io piango, soffro. Ed ecco perché il pianto può diventare per un cristiano un secondo battesimo. Può diventare un momento di rigenerazione, di rinascita, occasione di pentimento e quindi di ripresa di una vita più consona, più nel cuore di questo Dio che mi ama. Il pianto non è un sentimentalismo per i cristiani. Il pianto, le lacrime, non sono un modo per concentrarsi su di sé. Da piccolo non capivo, per esempio, quando durante alcune tradizioni popolari, soprattutto quelle legate alla passione di Gesù e quindi legate ai riti della Settimana Santa, vedevo piangere la gente. Non capivo, mi sembrava più un folcore. E crescendo, soprattutto quando poi partecipavo, almeno nella mia città, ma in tante città si fanno, agli incontri tra Gesù alla colonna e la Madonna addolorata, oppure alla processione del Cristo morto, quante donne piangevano. Bene, con il tempo ho capito che quelle lacrime erano il segno della partecipazione di quelle donne non solo al dolore di Cristo, ma il segno di donne che piangevano insieme a Maria, la morte dei propri figli, che piangevano il dolore del distacco. E si può impedire a una mamma, vedendo un crocifisso, vedendo una Madonna addolorata, di piangere, di commuoversi, perché anche lei vede in quella donna che è Maria il proprio dolore, il dolore di un figlio che sta per morire oppure è morto di un figlio che è scomparso. Ecco, quando il dolore diventa, il pianto diventa, anche occasione di preghiera, di riflessione, perché semmai io da bonista o da esterno sorridevo dinanzi a quelle scene di pianto, ma il Signore sa vedere il cuore di quelle donne, il cuore di tante mamme. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!